Da Shanghai a Londra, passando per le Filippine fino all'Australia, le luci si spengono per salvare il pianeta. È l'ora della Terra, l'iniziativa promossa ogni anno dal WWF che tocca 184 paesi, un vero e proprio giro del mondo. Alle 20 e 30 locali di ogni nazione tutti si uniscono al buio sotto il segno della lotta ai cambiamenti climatici. A turno si spengono simbolicamente tante icone mondiali, tra cui il palazzo di Westminster e la moschea blu in Turchia. L'evento termina nelle isole Cook nel Pacifico, un semplice messaggio di amore verso il pianeta per dimostrare l'importanza di agire subito contro il riscaldamento globale.